La Biostatique Volete essere favolose ma naturali? Come se foste state baciate dal sole? Allora il look balayage è quello che fa a caso vostro. La colorazione risulta molto morbida e particolarmente naturale. La tecnica è assolutamente personalizzabile in base alle diverse strutture di capelli. Con l'applicazione mirata di nuance diverse si può aumentare il volume o diminuirlo, a seconda delle esigenze della cliente. Balayage è una tecnica di colorazione a mano libera che viene eseguita utilizzando una spatola e un pennello. Il livello di schiaritura e l'intensità della stessa possono essere personalizzati e variati a seconda che si desideri ottenere un effetto più o meno deciso. Bandito ogni tentativo di fai-da-te a casa, affidatevi alle mani di un professionista. Quello che all'occhio sembra quasi casuale è frutto di un gioco, in realtà è la creazione di un colorista esperto. Per godere a lungo di questo look baciato dal sole è necessario prendersene cura con un adeguato sistema trattante. Per l'uso si consiglia protezione con il loro shampoo e conditioner, mentre Glam Color Advanced è l'ideale per rinfrescare le riflessature da usarsi una volta alla settimana. I professionisti della Bioesthetic sono dei maghi di questa tecnica francese di colorazione, in quanto sono stati informati su come eseguirla a regola d'arte.